Il presidente della regione Enrico Rossi, commissario per il terremoto, ha incontrato i sindaci del Mugello per fare il punto sui danni causati dal sisma del 9 dicembre. Sono 150 gli edifici dichiarati inagibili, 778 le persone fuori casa nel comune di Barberino, una trentina quelle nel comune di Scarperia San Piero. Il primo passo che noi abbiamo deciso di fare è che queste ordinanze di inagibilità degli edifici privati siano subito il primo impegno per consentire di ritornare nelle case. Intanto si facciano le perizie, le perizie abbiamo deciso che sono a carico della regione. Con la perizia sarà anche possibile capire se i fondi messi a disposizione sono sufficienti, a partire dai 4 milioni che lo Stato ha erogato dopo aver dichiarato l'emergenza nazionale.